Non ho preparato il discorso e vado a braccio e provo a parlare con il cuore a tutti noi e anche a lei, Ministro. Forse era Brecht che diceva che è sventurata la terra, che ha bisogno di eroi. Massimo rispetto per il militare ammazzato. Io non ho figli e non so proprio che cosa significhi per una madre perdere un figlio e perdere un lontano da casa. E nessuno vuole strumentalizzare un'ennesima perdita italiana in Afghanistan. Ma la guerra ci fa schifo, Ministro. E siamo in guerra da dodici anni. Tra l'altro la guerra è una delle guerre più durature del Novecento. Ed è una guerra. Il fatto stesso che lei dica che cambierà la missione, la prossima missione sarà no combat, significa che dove siamo adesso è una missione combat. Perché vi smentite da soli? Perché? Noi chiediamo un po' di onestà intellettuale in quest'Aula. Siamo in guerra ed è una guerra che abbiamo perso. E lo sapete tutti quanti. Ne parlavamo prima anche alla Bouvette. La guerra è persa. Perché tutte le guerre, quando si iniziano, sono perse. Perché la guerra fa schifo. Perché ci piace la pace. E perché non ci crediamo che l'unico mezzo di risoluzione di conflitti, anche dove ci sono non terroristi, magari criminali, ma non terroristi che comunque a noi non ci hanno mai attaccato, Ministro. E questo anche lo dobbiamo considerare. Perché abbiamo un articolo 11 della Costituzione che parla chiaro. E che l'Italia ripuglia la guerra come un mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Possibile che nel 2013 ancora diciamo frasi che dicevano gli antichi romani, Ministro. Che per fare la pace dobbiamo costruire la guerra. Che gli F35 ci servono per la pace. Quando la gente è fuori da quest'Aula si muore di fame. Scusate, colleghi, però parlo davvero con il cuore. E mi rivolgo a tutti voi, giovani o non giovani, alla prima legislatura e anche a voi. Io lo so... Però lei si deve rivolgere alla Presidenza. E anche a lei, Presidente, mi scusi. Cioè... Noi siamo entrati da poco, e al di là di tante differenze di visione. Io credo che c'è bella gente qui in quest'Aula. Ne son sicuro. E che vogliamo tutti quanti assieme anche cambiare una visione vecchia, stantia, che odora di guerra, che odora di morte. Allora mettiamoci assieme almeno su questi punti. Il Movimento 5 Stelle l'ha presentata immediatamente una menzione di ritiro delle truppe dall'Afghanistan. Noi non vogliamo che tornino domani così. Abbiamo chiesto al Governo di riferirci un'ex strategia vera e propria. Che cosa intendete fare? Ma quello che dicono dalla Nato, la Smussen, è che abbiamo già dato l'ok per proseguire a stare in Afghanistan. E se i talebani spareranno, che facciamo? Non spariamo. Io sono obiettore di coscienza. Ho scelto di non prendere mai un'arma da fuoco in mano. Perché anche se mi dovessero attaccare, io non voglio rispondere con un'arma da fuoco. Perché credo che la pace sia l'unica, l'unica, risposta. E non abbiamo utilizzato nessun altro modo per risolvere quel problema devastante che c'è in Afghanistan. Nella pace vale anche per i cittadini afghani. 70.000 morti, signor Ministro, e quasi 5 miliardi di euro, non per fare il venale, per l'amor di Dio, prima vengono le vite dei nostri militari, dei civili afghani e poi quattrini. Ma 5 miliardi di euro, più del gettito Imo sul quale si fanno campagne elettorali. Scusate ancora, colleghi e Presidenza, ma ci teniamo davvero a provare a portare parole di cambiamento in quest'Aula. E invitiamo tutto il popolo italiano e tutta quest'Aula a svegliarsi su queste tematiche, ad alzare la testa, a tirarla fuori dalla sabbia. Perché sappiamo perfettamente che la guerra c'è solo e esclusivamente per interessi economici che sono sempre gli stessi e sempre poche persone che determinano le scelte di interi popoli. E concludo dicendo, citando Torò, che ha scritto un libro bellissimo sulla disobbedienza civile, che le gambe, signori colleghi, non servono per sedervisi sopra. Iniziamo a camminare assieme. Grazie. Grazie.